Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume Tablet e didattica. Autori Roberto Marmo e Giampiero Filella. Editore Libri Sandit. Il costo del volume euro 9,90. Vediamo l'indice del manuale. Conoscere il tablet. Tablet didattica. Applicazioni per materie scolastiche. Applicazioni di vario tipo. Piattaforme per la didattica. Condivisione dei file. E gestire la lezione. È un volume di oltre 110 pagine. Ed è molto interessante. Buona lettura e buon lavoro con questo utile strumento di lavoro. Speriamo di essere stati utili e se volete potete iscrivervi al nostro canale. Grazie. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.